La tecnica che volevo fare, io potenzialmente farei un po' di roba, attualmente faccio stacchetti, come fai gli stacchetti, e ci dico faccio gli stacchetti, e allora fai lo stacchetto, e allora se mi dai tempo un attimo, guardo qui un attimo sul corpo, faccio lo stacchetto, però non è che mi puoi stare addosso perché faccio gli stacchetti, e adesso faccio lo stacchetto, se non parte, adesso parte, adesso parte, adesso lo stacchetto. E poi faccio lo stacchetto, Se ce l'ho detto, faccio gli stacchetti, e adesso fai l'ora, fai gli stacchetti.